Mimicoco e Carminuzzo Pazzo è la commedia andata in scena presso il castello Savuto di Cleito, in provincia di Cosenza, per prove aperte. I tre non sono altro che dei nomi popolari, c'è come dire in vernacolo cosentino, i riddacchiazza, c'è gente comune, un po' come per dire Tizio, Caio e Sembronio, tanto per intenderci. Ho dato un'identità a questi personaggi e mi sono inventato che sono degli attori che preparano uno spettacolo, quindi uno spettacolo si chiama prove aperte, appunto, sono le prove di questi attori. Sarà uno spettacolo molto divertente, in dialetto calabrese e narra delle vicissitudini, appunto, delle problematiche che ci sono nel rappresentare uno spettacolo teatrale. Loro rappresenteranno questa flash art, che è questa idea di Carminuzzo, appunto, il folle, il pazzo, che vuole fare uno spettacolo che dura 15 minuti, fatto di immagini, una pantomime, insomma, poi, Mimiche, insomma, lui ha capito perfettamente cosa è la flash art, ve la spiegherà in due secondi. La flash art, in realtà, è il sunto di tutte le pantomime che la compagnia sta mettendo in atto sul palcoscenico, nelle prove che fanno i tre personaggi. E no, 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 che vuoi dire? Va bene, basta così, perché basta così. Adesso facciamo parlare anche Coco, che lei si è inserita, insomma, in questa situazione, che è un'attrice, insomma, straordinaria, che ha lavorato con i più grandi registi del mondo e ha deciso di lavorare con Carminuzzo. Perché? Perché ha trovato Mimiche e Carminuzzo, i suoi compagni di vita teatrale, che danno la possibilità di esprimersi in maniera sublime. Brava, penso che sia stata concisa. Però l'unico personaggio, quello di Mimiche, che vuole, che tende, tende al teatro classico... No, ecco, comincia già ad allargarsi, comincia già ad allargarsi, insomma, comunque il regista che sarei io ha a che fare con, insomma, questi due protagonisti che sono molto, molto però creativi e questo bisogna dirlo, bisogna dirlo.